Vorrei dire ancora due parole di critica, almeno per come la vedo io, rispetto al modo di fare informazione in materia sanitaria, di fare informazione in giornalismo. E prendo spunto da due notizie comparse freschissime, ieri e l'altro ieri. Leggo sull'Ansa, il titolo prima di tutto, muore a dieci anni in sala operatoria Meyer. Allora, insomma, uno che legge questo titolo pensa, eh vabbè, muore in sala operatoria, insomma, chissà che sbaglio hanno fatto, no? E poi il contenuto, insomma, della notizia sull'Ansa, quindi non tanto commentato la notizia data. Bambino di dieci anni, Fiorentina, morto sabato scorso dopo un intervento chirurgico all'ospedale Meyer di Firenze. Il piccolo, una ventina di giorni fa, era stato sottoposto, secondo quanto spiegato dall'azienda ospedaliera Meyer, a un primo intervento di natura neurochirurgica durante il quale i medici sospettarono la presenza di una grave patologia. Sottoposto a un secondo intervento, il piccolo è morto sabato scorso nel reparto di rianimazione per le complicanze intercorse. I genitori hanno presentato oggi un'esposta in procura per capire le cause del decesso. L'azienda ospedaliera Meyer, fin da subito, aveva avviato accertamenti e i medici del team neurochirurgico avevano chiesto un esame autoptico. Gli accertamenti che saranno effettuati sul corpo del bambino dovranno stabilire se la patologia è emersa durante l'adegenza all'ospedale Meyer dopo il primo intervento possa essere stata la causa delle complicazioni che ne avrebbero causato la morte. Allora, questa è normale routine ospedaliera. Voglio dire, qualsiasi intervento ha un rischio, c'è una percentuale di rischio di mortalità, soprattutto se poi questo intervento è motivato, si riscontra durante l'intervento una patologia importante, grave, che poi richiede assistenza, richiede magari un secondo intervento. Ma insomma, su questa cosa qui non c'è niente di eccezionale. E' giusto che si indaghi, è giusto che si verifichi come è morto il bambino, se c'è qualche responsabilità, ma è una cosa interna, non fa notizia. Nel momento in cui diamo una notizia di questo tipo e la mettiamo sull'ANS, quindi poi viene ripresa dai giornali, eccetera, eccetera, i genitori presentano un esposto, si sottintende a queste cose un episodio di mala sanità. Ma si sottintende una colpa, una responsabilità, di cui non c'è neanche un'ipotesi al momento, insomma. Cioè questa cosa è giusto che si faccia, ma siccome succede in migliaia di casi, di situazioni, tutti i giorni in ospedale, perché negli ospedali non si va se si sta bene, no? Se si sta bene si sta a casa, insomma. E quindi se si sta male si corre anche il rischio che questa patologia possa anche complicarsi nel tempo, possa diventare mortale. Dopodiché si fa quel che si può, si tentano anche degli interventi, e questi interventi possono avere anche delle complicanze. Ma è la normalità di quello che succede nella vita ospedaliera di tutti i giorni. Se questa normalità però diventa oggetto di informazione, e di informazione in un certo senso scandalistica, perché il titolo, quando io ho letto questo titolo, muore a dieci anni in sala operatoria, è chiaro che, insomma, mi fa presupporre qualcosa di scandalistico, insomma, qualcosa di malasanità, un qualche errore, una colpa. No, ma non c'è ancora nessun accertamento di colpa, e probabilmente non ci sarà. Allora, questo modo di dare la notizia, che poi probabilmente non verrà più ripresa, verrà dimenticata, verrà abbandonata, non fa altro che accrescere il sospetto dei cittadini nei confronti della sanità e nei confronti dei medici in particolare, e quindi di creare quel clima di diffidenza che fa sì che poi dall'altra parte i medici a loro volta si proteggano e quindi o operano il meno possibile, oppure cercano di fare esami, accertamenti, insomma, di innescare quella catena di scarico di responsabilità che porta poi alla fine a perdere tempo, ad aumentare i costi, insomma, a tutta una serie di disservizi nel campo della sanità che non fa che poi aumentare questi casi. Allora, in questo caso particolare, la stampa deve stare zitta, deve lasciare che questa cosa faccia il suo corso, insomma, non deve andare dietro a qualsiasi denuncia che viene esposta da parte... Beh, è logico che i parenti, insomma, possono essere... possono non accettare la morte, soprattutto di un bambino, e quindi è giustificabile che cerchino di... come dire... di verificare se c'è qualche responsabilità, se questo bambino non è morto per un qualche errore. Ma finché la cosa non è definita, finché non si è stabilito che c'è stato un errore e non c'è stato un naturale decorso, siccome questi episodi succedono tutti i giorni e guarda caso non si sa mai come mai alcuni vengono a la ribalta e la gran parte no, è meglio stare in silenzio, è meglio vedere e semmai denunciare quando effettivamente è stata riscontrata una colpa. Insomma, si denuncia eventualmente dopo che c'è stato un processo, perlomeno dopo che c'è stato un riggio a giudizio, dopo che c'è stata una... insomma, un riconoscimento che c'è stata una colpa e quindi, insomma, a quel punto si può cercare di fare sì che le cose migliorino e che i cittadini siano più prudenti, ma finché non c'è stata nessuna colpa, non c'è stata nessuna colpa, c'è stato soltanto un esposto ed è giusto che, insomma, che i parenti chiedano accertamenti, insomma, chiedono, insomma, una cosa che magari per loro non è chiara, che magari invece per chi ci lavora può essere chiara, ma è giusto che avvenga questo, ma di questo la stampa secondo me non deve occuparsi finché non ci sono notizie invece di colpa, finché non c'è stato almeno un rinvio a giudizio, perché non fa che peggiorare poi il clima che diventa sempre più aspero, che poi diventa controproducente nei confronti dell'utente. L'altro a cui sono arrivato conoscenza perché semplicemente un amico che mi ascolta su YouTube mi ha chiesto ma cosa ne pensi di questa cosa della toffa che io manco conoscevo, insomma, non conoscevo neanche di nome perché non guardo di solito le iene e non guardo la televisione e quindi non conoscendolo questo nome questo nome mi era sconosciuto. Allora sono andato a guardarmi, sono andato a guardarmi chi era e cosa è successo. Allora, come faccio in questi casi, come ho fatto anche in occasione di altre situazioni, cerco di farmi un'idea dalle notizie che ricavo dalla stampa. So che è successo questo, questo e quello. La stampa mi dice che è successo questo, questo e questo. Caduta, svenimento, ho avuto questi sintomi, eccetera. Allora, cosa può essere successo? Che patologia può avere avuto? No. Uno si cerca di fare un'idea, poi ti fa una sua ipotesi e poi sarà smentito dai fatti, non sarà smentito, eccetera, eccetera. Allora mi sono chiesto ma che ipotesi posso fare di quello che è successo alla toffa, di questo malore che viene descritto, per cui è stata portata ad urgenza, a rianimazione, al cattinare di Trieste e poi da Trieste è stato fatto qualche accertamento ma di cui non si conosce, e poi è stata trasferita in elicottero a San Raffaele, sempre in neurochirurgia, rianimazione, e lì è in corso accertamenti, ipotizzata una grave patologia cerebrale ma poi, insomma, la sera è tutta bella che si guarda, che la sera poi si guarderà le iene e così, insomma, no? Allora c'è questa discrepanza, no? C'è questa discrepanza tra il malore grave, ricovero urgente, neurochirurgia, rianimazione, ipotesi di patologia cerebrale indefinita, poi altri esami che si devono fare, accertamenti, ma lei che riprende conoscenza, che anzi si guarda dalla rianimazione la puntata delle iene la sera e si chiede cosa succederà senza di lei, senza di lei in televisione, insomma, presente nella puntata. E poi silenzio, no? E questo silenzio poi è abbastanza, è quello che secondo me spaventa di più, no? Perché, beh, intanto uno si chiede se questo qui sta bene qualcuno avrebbe sicuramente detto che sta bene. Quindi il fatto che la notizia è data domenica, mi pare, no? Due giorni fa, ed è data immediatamente, no? Con molto risalto, compare sull'Ansa, eccetera, eccetera. Poi, oggi è martedì, silenzio, no? Allora, è pensabile che in questi due giorni abbia fatto gli esami, no? Abbia fatto tutto quanto che permette di stabilire una diagnosi, insomma, in qualche modo, no? Ma noi non sappiamo più niente né del suo stato di coscienza, quindi né di com'è, né se ha deficit, né se ha amuto, né com'è stata, insomma, fisicamente in questi giorni, due giorni, né dell'esito degli esami che ha fatto. Vi ricordate che per la ragazzina che è morta, sulla quale abbiamo fatto il video, un ritardo di un'ora sulla diagnosi è stato quello che ha portato poi alla denuncia nei confronti dei medici, insomma. Quindi c'è da pensare che San Raffaele, uno dei luoghi più prestigiosi della sanità italiana, dove si cura anche Berlusconi, insomma, no? Quando sta male. Diciamo, non ci possono essere ritardi. Allora, il problema è che si sa, si dovrebbe sapere a questo punto cosa è successo, cosa ha scatenato questo malore e gli esiti che questo malore ha lasciato, qual è la patologia che questa si porta addosso. E invece non sappiamo più niente. E forse non sapremo neanche niente, chi lo sa. Ma silenzio. Allora, questo silenzio, in questo momento, secondo me, fa sospettare. mi chiedo, se fosse stata bene, avremmo subito notizie rassicuranti dopo. In realtà, il fatto che non si dia nessuna notizia vuol dire che notizie rassicuranti non ce ne sono tante. Allora, non credo che questa urgenza, la neurochirurgia, tutto quanto, il trasferimento in elicottero, insomma, sarebbe stato fatto per una persona per la quale non è successo niente, che non corre pericolo. Ah, lo si diceva, anche come è stata data la notizia, insomma, che era pericolo. Ma non sappiamo niente. E anche in questo caso, insomma, uno che legge la notizia all'inizio, ed è una notizia che, no, che mette ansia, no? Cioè, si capisce, anche quando poi intervistano i suoi colleghi, no? Sono tutti preoccupatissimi, eccetera, eccetera, no? Nonostante che lei poi venga dato, ma senza vederla, si vedono solo le dita, insomma, tranquillizza tutti, e sembra molto serena, insomma, no? Da quello che dice, da quello che viene riportato dalla stampa. C'è una contraddizione tra questa apparente serenità e questo modo di gestire poi l'informazione. Io dico anche in questo caso, o l'informazione è completa, allora ci dice qualcosa all'inizio, ma poi segue, perché uno che legge una notizia così, primo acchito, no? Data immediatamente, mostra la gravità, eccetera, e poi vuole seguire anche quello che c'è stato, nel bene e nel male, quello che viene dopo. Se invece si dà la notizia così, in maniera allarmistica, e poi non si dice più niente, è chiaro che questo poi lascia aperti sospetti e insomma, conoscendo un po' come sono le cose in questi casi, insomma, i sospetti poi si orientano verso il negativo. E quindi perché, per esempio, lasciare un immaginario negativo rispetto alla salute di una persona se poi non c'è motivo? No. Allora, anche qua, secondo me, la stampa deve decidere, insomma, o sta in silenzio subito e lascia che le cose avvengano e ne parla quando le cose sono avvenute, in qualche modo, no? Mentre sappiamo che questa persona è stata male e poi è guarita, insomma, e ci dicono magari anche cosa è successo, oppure non ci dicono niente, insomma, no? Quindi sta in silenzio oppure se ne parla deve anche, come dire, questa notizia seguirla nel tempo, almeno finché la situazione non si è poi stabilizzata, insomma, no? Se allarmi una persona, poi questa persona si sente anche in diritto di chiederti, beh, e adesso? Dopo due giorni, dopo tre giorni, quattro giorni, e adesso? Cosa abbiamo, cosa è successo? No, perché nel momento in cui ho provato a farmi un'idea, insomma, di cosa può essere successo, di cosa possa essere, avere giustificato questo malore grave, in realtà non ho avuto elementi, ho cercato, insomma, dove ho potuto, beh, ho cercato qualche elemento che mi desse la possibilità di orientarmi, e non sono riuscito a orientarmi, ma non ho nessun elemento per fondare nessuna ipotesi su cosa può essere successo, tranne che da come è stata gestita la paziente diciamo, nei primi soccorsi, nei primi tempi, qualcosa di grave possa essere successo, ma su cosa possa essere qualcosa di grave, questo qualcosa di grave, quindi sulla prognosi che potrebbe essere possibile, insomma, rispetto a questo qualcosa di grave, qua non c'è il vuoto, come dire, non sono stati forniti elementi per orientare un minimo di ipotesi, è stata data una notizia allarmante e poi non ha fatto seguito a questa notizia allarmante nessun'altra notizia che potesse permettere un miglior inquadramento e quindi anche di formulare così, insomma, un minimo di ipotesi su come questa vicenda potrà finire, insomma, questa vicenda, insomma, su come potrà riprendersi sperabilmente, insomma, questa persona che ha avuto questo malore. Brutto modo di gestire dal punto di vista della stampa queste cose, insomma, perché perché noi vorremmo capire, no? Allora, uccidite le cose in modo tale che possiamo almeno interpretarle e leggere tra le righe e capire, ma se poi non possiamo capire e ci lasciate allarmati, non fate un buon servizio, meglio che non ci dite niente, trovo una contraddizione in questo. Io faccio i miei auguri a Nadia Toffa che così mi era capitata di vedermi la faccia, insomma, di vedere un po' l'atteggiamento in pochi minuti in cui avevo una volta visto un video. Ma al mio amico che mi chiede ma che impressione ti sei fatto? Io posso soltanto rispondere che non ho gli elementi per farmi, per essermi fatto nessuna impressione, cioè, da quello che la stampa ha detto non sono in grado di ricavare gli elementi per nessun giudizio. Forse è giusto essere riservati nei confronti della salute di un individuo che queste cose non vadano in piazza, insomma, no, la privacy e queste cose qua. Però la privacy è stata già rotta, insomma, no? Cioè, nel momento in cui sappiamo che è finita l'animazione, è stata assolita in elicottero con tanto di equip da San Raffaele, eccetera, insomma, che c'è stato qualcosa di cerebrale, insomma, in qualche modo. A un certo punto viene detto che c'è il sospetto di una patologia grave cerebrale, insomma, già la privacy è stata rotta, no? E allora a questo punto vogliamo anche vedere se possiamo ricavare da questa situazione delle notizie anche tranquillizzanti per il futuro. E invece non ci viene detto più niente e ci sarà silenzio, insomma. Probabilmente anche i medici si riserveranno, saranno i medici a non dare informazioni alla stampa, la stampa non potrà averne, eccetera, eccetera, ma il meccanismo si è innescato e allora non lo trovo una cosa bella. Forse le cose vanno così, però non mi sembra il modo migliore di gestire le notizie. Avrei voluto che ci fosse un qualche aggiornamento di questa notizia. ieri, stamattina, insomma, ho letto per vedere se trovavo un qualche aggiornamento, un qualcosa che facesse sperare che in realtà insomma degli accertamenti erano stati fatti e che potessero aver individuato una patologia che magari se c'è che potesse essere in qualche modo curata, che potesse essere, che potesse arrivare a una guarigione insomma, no? L'episodio acuto così importante, così drammatico sono aperti tanti sospetti, ma per decidere tra un sospetto diagnostico e l'altro per discriminare non ci sono le menti. Da una parte mi pare che si si ha detto che si esclude l'emorragia cerebrale con l'emorragia subaracomidea insomma. Così, due esempi secondo me di una cattiva gestione della materia sanitaria da parte dell'informazione. Non lo so, vorrei sentire dei commenti a riguardo anche il nostro parere. Saluto.